nome andrea tj soprannome fiore tj altezza 189 194 ruolo schiacciatore scherzatore numero di maglia con la serie a7 con la serie b 9 13 come ti chiama la tua mamma andy tg che cos'è per te la palla a volo la passione la cosa bella che facciano quando ero più piccolo la mia vita è passione il tuo ruolo nello sfogliatoio motivatore io faccio palliaccio cosa ti piace di più oltre il volley ma viaggiare penso una passione che mi piace un sacco riposo il tuo punto debole in campo quando non mi riescono le cose perdo un po la testa rimanere positivo e nella vita ma troppo buono con le persone rimane positivo in quale nazione si gioca la pallavolo più bella per me stati uniti in italia titolo di studio terza media per il momento università scaramanzie pre gara ma nessuno in il tuo compagno di squadra ideale uno che non molla mai sempre grinta fino all'ultimo la tua canzone preferita bravo adesso canta per noi non tengo paura in issue tender surrender by steve vai imita un tuo ex allenatore quando si arrabbia ma no ma dietro la palla il tuo vizio mcdonald cibo spazzatura prendere il sole la tua paura deludere le persone che vogliono bene parola del tempo chi vince il prossimo scudetto noi saluta i tifosi dell'autunno caldico ciao a tutti però che si può ritornare più presto al palazzetto tutti insieme ciao gianna rossa possiamo questo